Oh, ous! Andiamo a me! Oh, ous! Il mio dottore, veterinario, mi ha detto sempre Non preoccupate Il tuo gallo Lo salverò Invece no Il gatto è morto Un cane è morto Il lupo è morto La tigra è morto Ulione è morto La giraffa è morto Il pitone è morto Ugat è morto Ugat è morto Ciao, alegriani belli Come voglio bene Vi sto sempre pensando Sai i vichinghi la curva della Juve C'è un po' il bambino Di Alamurt Di Alegriani Però volevo capire una cosa Agli alegriani Vi è piaciuta anche questa partita I vento salernità La traversa Di Alamurt Ma come fate A giustificare questo allenato Come fai i risultati I risultati Aveteci scalzati Grazie agli altri risultati E' di ritardo un po' il video Perché stavo aspettando la fine della partita di Atalanta Roma Che è appena terminata con la vittoria dell'Atalanta per 2 a 1 E quindi ha certificato Matematicamente La presenza della Juventus in Champions League Punto Quindi questo non vuol dire niente Che si è qualificato Ma buca a curdi Che se la Juve arriva a quarta È un miracolo Un miracolo Perché adesso È vero che sta terzo Barra quarto Perché sta a par punto Bologna Per la differenza Stai in quarto Stai a Praticamente l'Atalanta Vincendo il recupero E qualche altra partita Perché c'ha Lecce E Torino E Tau invece In Bologna E Monza Può essere anche Che arriva quinto E quindi ancora di più Il miracolo Il miracolo ha fatto l'Atalanta La Fiorentina Tutte le squadre Che sono andate in finale Delle coppie Che hanno permesso L'Italia Di arrivare prima o seconda Nel Wrecking E far partecipare Cinque squadre in G Ci sono neve Ma ci siamo in G A Padre P Altro bel giocale I risultati E poi Se giochiamo così Mercoledì Sarà uno spettacolo Che ha dei geni Siamo la speranza Ci sa facciamo un gol E poi ci mettiamo tutti là E buco che è bello Buco che è bello Gli Alegriani Buco che è bello E non è che E non c'è C'è un città Che ha pagato Per fare il 90 Un minuto ad anni Che non può Gli Alegrani Però qui purtroppo Ma che non c'è La legge Ci ha parlato Ci ha parlato Facciamo il pagello Perché me lo stanno chiedendo Mi arriva un messaggio Un messaggio Whatsapp E tutto E ancora Un pagello Facciamo il pagello Il gatto è morto La città è morto La città è morta La città è morta Un cuore Un cuore Un regno Un cuore Paggellone ragazzi Vai La Zembre La Juven Champions Un cuore Voi ricordate Ve lo ricordate L'ultimo accento Del nostro Max Allegri Il maccabiano Ve lo avete ricordato Ciao Paggellone Che è spettacolare Paggellone da oggi Iventus Saleritano 1 a 1 1 a 1 L'ultimo Inglasif Scesni 6 Scusi 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 Gatti 3 e mezzo Punto Bremer Scusi Secondo me È l'unico Quattropollone Scusi D'altro Scusi 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 Ha tentato un bel tiro da fuoriare Qualche altra cosa Un resto Scritto Ruggani 5 Impacciato D'altro Un fai squadro ogni 3-4 mesi Cambiato 5 e mezzo Lo dico e lo ripeto Lo dico e lo ripeto Aranga l'allenatore Lui può crossare Infatti ha fatto quel bel cross Che per poco Flaovic Nangelo 5 e mezzo Mekinni Locatelli E Rabiot 3 La vergogna La vergogna La vergogna Mekinni Ah ci stavo Che facevo Invasione di campo Loritz Fraida E Rabiot E Rabiot E non ha deciso Che niente Rabiot E quindi Niente 3 in Bagella 3 in Bagella Poi Locatelli Allora Mekinni Locatelli 3 Fantasma Sostituito Da Gildiz 3 E E 3 E E E E Ma va a spiegare Perché Ha messo il titolare Can Ha detto ieri Con la conferenza stampa Che dovevano giocare i migliori Pfff La procura 2 e mezzo A Can Vlaovic 5 chiaramente Fa quel bel tiro Prende la trave Prende la parata Prende la trave E ha scappato Vlaovic Come sempre 5 Chi è entrato nel secondo team? Gildiz 6 Più o meno Miretti Peccato Poteva anche segnare prima Pietro Travesse 6 Iling 4 amiche 5 amiche L'allenatore Lo stronzo Il chita morto Meno 2 Meno 2 dopo Però è cornuto È fortunato Perché Come ho detto prima La Roma ha battuto l'Atalanta È già in Champions Ma mercoledì Scima a Roma Fa la finale De Coppita Ogni volta che finisce la partita In conferenza stampa Pensiamo A Tavolo Pensiamo Alla solidità Ma pensiamo Alla finale di qui Ma cazzo Faccio schifo Pensiamo Al Bologna Tadasha Te ne devi andare Ma c'è l'aiuto Te ne vedi Alla Hawaii Te ne vedi 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 Spero che Cambiamo Cambiamo La società Non c'è Non c'è UGA TEMURD UGA TEMURD Ora vi do l'altra chicca Sempre per gli allegrani Che voglio bene Gli allegrani Questi che capiscono Pallucci Eeeh Volete sapere Il Montengaggi Della Juventus Quest'anno 126 milioni Non c'è Montengaggi 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 Atalanta 45 milioni Montengaggi Bologna Perché loro Dicono Per giustificare La natura Che la squadra Non vale nulla E chi giustifica I 7 milioni Ascesi 5 milioni Abreme Aleksandr Danilo 4 Rugani 3 Kostis 2 Rabiot 7 Locatelli Chiesa 5 Kent 3 Vlaovic Cornuta L'allenatore Montengaggi Tiago 2 milioni Quello che prende di più Bologna Orsolini 3 milioni 3 milioni 1 euro Zirken 1 milione 5 milioni Atalanta 5 milioni 2 milioni 3 milioni 1 milione Scalvin 5,5 milioni 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 coppetta buona a chi del cartone o tra l'altro non cambia niente se vince mi fa piacere poi c'è da da se perde arrivederci buonasera a tutti da mia capelli ciao ragazzi alla prossima